Sono Francesco Ferrini, sono docente di arboricoltura presso l'Università di Firenze e sono anche presidente del distretto vivaistico ornamentale di Pistoia, che è il distretto vivaistico più grosso d'Europa. Gli alberi rappresentano sicuramente il mezzo migliore e anche più economico per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, all'inquinamento e a tanti altri fattori che in questo momento stanno influenzando la nostra vita. Anzi, sono l'unico mezzo che abbiamo per contemporaneamente adattarci ai cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti. Purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo per sapere come sarà il clima fra 50 anni, ma abbiamo tante informazioni che ci dicono che il clima non solo sta cambiando, ma cambierà anche in futuro e purtroppo non in senso positivo. Ecco, noi dobbiamo essere capaci con le informazioni che ci vengono dalla comunità scientifica di individuare quali saranno le piante, soprattutto gli alberi, che saranno in grado appunto di crescere e di fornire servizi ecosistemici in un arco di tempo abbastanza lungo. E dobbiamo tener conto che è molto importante il fattore biodiversità, quindi scegliere non solo una specie, non solo poche specie, ma quante più specie possibili, semplicemente guardandosi intorno, vedendo quelle che hanno dimostrato maggior resilienza negli ultimi anni. Grazie a tutti.